Una fattoria didattica in città per l'educazione ambientale e alimentare dei bambini, con poni, merende contadine e giochi all'aria aperta per dare il via all'agrodidattica in occasione del ritorno a scuola. È l'iniziativa di Coldiretti Puglia che si svolgerà nella giornata di domani 16 settembre a Foggia e che vedrà percorsi di sport, salute e cibo in linea con Educazione alla Campagna Amica, progetto che vede una collaborazione con le scuole da oltre 20 anni e finalizzato specialmente a far conoscere il ruolo dell'agricoltura, i saperi della cultura rurale e la passione dei contadini. L'obiettivo è dunque di tipo culturale e consiste nel tentare di cambiare le abitudini di consumo sbagliate che si sono diffuse ovunque, formando consumatori consapevoli sui principi di una sana alimentazione della stagionalità dei prodotti. Grazie a tutti.